Messa a disposizione delle proprie basi aeree per i raid della coalizione a guida statunitense contro l'ISIL, avvio dei bombardamenti sugli avamposti del sedicente Stato Islamico e repressione della militanza kurda. A pochi giorni dall'attentato di Sorouche, i raid aerei lanciati venerdì da Ankara sul suolo siriano segnano solo il primo passo della stretta turca sulla sicurezza. Le socconti stampa, secondo cui i raid sarebbero già stati condotti anche contro campi del PKK nel nord dell'Iraq, potrebbero trovare conferma nella volontà ribadita da Erdogan di intensificare anche la lotta ai militanti kurdi. Da questo momento entriamo in una nuova fase, è stata la dichiarazione di guerra del presidente turco. Intraprenderemo tutti i passi necessari per portare a termine questa battaglia. Il popolo turco deve avere fiducia nello Stato. Cartelli che associano Erdogan a un assassino e slogan contro il tardivo intervento di Ankara contro l'ISIL rivelano gli umori della piazza pro kurda che ha sfilato ad Istanbul in una nuova manifestazione costellata di arresti e tensioni.